Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 21 gennaio, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. Negli Stati Uniti è iniziata l'era Biden in un momento veramente delicatissimo. Parliamo di questo ma soprattutto di molto altro con Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina che ritorna dopo la pausa natalizia qui nei nostri studi proprio chiaramente per commentare la prima pagina del suo giornale che noi già questa mattina alle 7 abbiamo proposto in anteprima. Buongiorno Diego. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buon anno. Buon anno, chiaramente la pagina di oggi si apre con la morte, con la morte del ragno delle Dolomiti, Dolomitico avete titolato proprio questa mattina con questo bellissimo ricordo a Dio Cesare, ragno della condivisione, no? Avete scritto? Sì, la definizione è di Franco De Battaglia, nostro autorevole collaboratore che frequenta la zona di Campiglio, amico di Cesare Maestri e ci ha aiutato a capire anche l'evoluzione di questo personaggio dalla storia avventurosa, leggendaria appunto. Perché il ragno delle Dolomiti nella parte poi della maturazione della sua vita dopo l'esuberanza giovanile si è caratterizzato proprio per l'attenzione a formare le nuove generazioni ad una fruizione della montagna, all'insegna del rispetto, dell'ambiente, ma anche delle regole della convivenza e soprattutto della solidarietà. Lo ricordiamo quando prese il premio Solidarietà Alpina, proprio a Pinzolo, nella sua terra, ebbe parole molto profonde per dire come uno dei valori della montagna, appunto quello della condivisione, che può essere sia la condivisione di una gioia, ma anche la condivisione di una sofferenza, di un lutto. È unanime il pensiero che sia stato uno degli alpinisti più grandi, giusto? Condividi Diego? Ma sì, dal punto di vista tecnico, insomma, è scritto anche nelle storie monumentali dell'alpinismo, però divenne anche un personaggio pubblico che ottenne molto spazio anche sulla stampa nazionale. Abbiamo visto anche nell'occasione della sua morte, sono uscite pagine importanti, non solo per le polemiche legate, eccolo qui lo vediamo, la vicenda del Cerro Torre, ma per lo stile che Maestri aveva introdotto e quindi penso che dobbiamo essere orgogliosi e la SATA ha chiesto al Festival della Montagna di avere un momento particolare nella prossima edizione per rileggerne non solo la vita, ma anche il pensiero. Ha scritto anche alcuni libri autobiografici, quindi non mancherà il materiale per tornare appunto alle sue riflessioni. E devo dire che proprio ieri Mauro Levighi, che è il presidente del Trento Film Festival, che io ho intervistato, cioè proprio ho confermato insomma che il Trento Film Festival dedicherà sicuramente delle giornate o degli incontri al grande Cesare Maestri. Voi questa mattina parlate anche della chiusura del quotidiano trentino, ce ne siamo occupati molto anche noi, e date proprio un titolo che io ho particolarmente apprezzato, che è Signori si chiude. Questo è il titolo che avete scelto proprio per affrontare questo dramma, possiamo definirlo così, per il mondo dell'editoria trentino. Sì, i titoli hanno sempre una seconda chiave di lettura. In questo Signori si chiude, volevamo sottolineare il modo perentorio, apparentemente signorile, con cui la proprietà nel giro di una sola giornata, ma anzi per molti colleghi di poche ore, ha comunicato la notizia. Evidentemente una tattica, una strategia per evitare proteste, polemiche che si potessero trascinare, per avviare tentativi di salvataggio che evidentemente non erano ritenuti possibili. Però in questa mossa, ecco, credo che ci sia, in questo metodo, ci sia anche un po' di sostanza. Qui vorrei ricordare agli ascoltatori le promesse che erano state fatte quando l'editrice, appunto, Alto Atesina, fece quest'operazione che allora era sì di salvataggio, insomma di acquisizione delle due testate. Anche l'Adige era in difficoltà da qualche mese, da qualche tempo, insomma, era sul mercato per subentrare ai precedenti editori. Ecco, quindi dopo questa iniziativa che sembrava potesse ridare ossigeno alle due testate, e in quell'epoca registrammo tutti la volontà di mantenere le due testate distinte, ma comunque mantenerle, invece questa promessa non è stata rispettata per motivi che gli editori, peraltro, hanno spiegato, e di motivi evidentemente economici, però questa chiusura così repentina ci sembra molto significativa. Ecco, al di là della solidarietà ai colleghi, alcuni dei quali sono anche nostri collaboratori a Vita Trentina, abbiamo cercato di ripercorrere insieme a Mauro Lando, che è storico, redattore del giornale, la storia di questa testata chiusa così in fretta, ma evidentemente guardiamo anche al futuro, che forse non passa più attraverso questo marchio purtroppo, ma potrebbe passare da un sussulto, insomma, di iniziativa da parte trentina, ecco, per garantire a questa terra anche una voce propria. Si parla sulla prima pagina di Vita Trentina di questa mattina ovviamente anche di vaccini, che è il grande tema chiaramente di queste ultime settimane, e mettete in evidenza quei problemi che chiaramente ci sono stati proprio in questi ultimi giorni, vaccini avanti piano, come sappiamo, cioè quella problematica relativa ai vaccini Pfizer, no? Sì, peraltro abbiamo voluto approfondire il tema, anche perché sembravano porsi problemi di graduatori e quindi anche di discriminazione, soprattutto tra i soggetti più deboli. da questo punto di vista abbiamo dato ampio spazio all'intervento di Anfas, l'associazione dei familiari dei disabili, che chiedono appunto un'attenzione particolare. La sanità trentina sembra essere al riparo attualmente da problematiche di fornitura, appunto, dei vaccini anche di quelli Pfizer, e così almeno ci ha dichiarato il direttore generale che abbiamo intervistato con una serie di risposte che sembrano tranquillizzanti. Naturalmente il nostro compito è quello di verificare, però avevamo registrato anche nell'ampio ambito delle RSA una certa soddisfazione per il numero delle vaccinazioni, delle prime vaccinazioni che ha avuto una copertura quasi generalizzata. Il tuo editoriale di questa mattina è dedicato alla crisi di governo in un momento già di crisi purtroppo per l'Italia. Sì, forse appunto lo stiamo un po' dimenticando, anche nel dibattito in aula, sia al Senato che alla Camera, a parte appunto alcuni richiami, è sembrato un po' di assistere ad una crisi come le altre. Qui invece è una crisi a cerchi concentrici che si riflette sul Paese, sull'Europa, sulla necessità di aderire ai fondi europei. E questa consapevolezza appunto abbiamo voluto far rimarcare, mettendo in evidenza anche il contributo determinante che è stato dato, anche con il loro stile, da due senatori a vita. Liliana Segle e anche Mario Monti, che hanno dato la loro fiducia, motivandola anche per questo contesto difficile. Nelle pagine interne poi parlate, date ampio spazio ai giovani e all'impegno proprio dei giovani per stare vicino a chi è in difficoltà anche a causa della pandemia. Sono stati tanti giovani che hanno risposto proprio a quell'appello dell'Arcivescovo Lauro dell'inizio di dicembre, ecco. Sì, lunedì Don Lauro ha voluto incontrarli, erano quasi una cinquantina, quelli, sono un centinaio in tutto, li ha incontrati a distanza per dire loro che questa loro disponibilità, questa loro scelta indicano una via alla comunità trentina. Nel momento della crisi la risposta è quella del darsi da fare nei modi consentiti per favorire chi è maggiormente in difficoltà. Riaprite poi un dibattito, sempre nelle pagine interne, un dibattito insomma che va avanti, bisogna dire, da molti anni sulla questione dei sacerdoti sposati o no. Sì, perché lo facciamo? Perché ormai si avvicina all'anniversario del documento di Papa Francesco, la carida Mazzonia, l'esortazione post-sinodale, in cui questo tema della possibilità appunto di consentire ad alcuni uomini sposati, l'accesso al sacerdozio era stato agitato con una certa forza. Ecco, lo recuperiamo attraverso un contributo molto originale di Don Giulio Viviani che evidenzia come già nel 1969 un gruppo di seminaristi avesse posto questa problematica che a noi preme a richiamare anche come contributo alla riflessione sull'identità del prete oggi e sulle esigenze anche di tipo umano, relazionale che il sacerdote manifesta oggi. C'è una grande novità nel panorama culturale perché hanno riaperto proprio in queste ore, in questi giorni i musei che erano chiusi ormai da molte settimane e vi occupate anche di questo. Beh sì, è nostro compito anche dare le notizie di speranza, quelle positive, quindi le abbiamo registrato con evidenza i musei trentini sono stati subito attenti a cogliere questa possibilità. Poi sul piano culturale vorrei segnalare anche le due pagine dedicate alla giornata della memoria che quest'anno abbiamo attualizzato per così dire segnalando questo referendum di cui si è parlato poco finora in Trentino che è un referendum partito da alcuni comuni che chiede appunto l'abolizione di tutti gli oggetti, simboli che possano in qualche modo inneggiare al periodo fascista prendendo spunto alcune situazioni deprecabili emerse dalla cronaca. Per concludere anche un focus sul film appunto su Chiara Lubic e voi avete proprio accolto e girato insomma i protagonisti alcune critiche che sono arrivate anche proprio dai lettori. Sì, Giacomo Campiotti, il regista, si è sottoposto volentieri questo gioco al massacro, ha dato risposte in parte anche comprensibili, dice questa è una fiction, non è un documentario, voi vi siete accorti di alcuni limiti ma gli altri spettatori, ecco ringrazio la regia di restituirci queste immagini, gli altri spettatori del resto del paese non si sarebbero accorti. Questa è la scena dell'appolenta fumante che però non fumava e il regista a proposito ci ha detto beh si sarà raffreddata nel portarla da basso. Insomma un dialogo scherzoso che si può rivedere anche nel nostro sito internet che però rivela anche quanto il regista sia stato colpito dalla spiritualità focolarina e poi c'è anche una premessa, promessa che il film completo, perché di fatto dura 160 minuti, noi ne abbiamo visti soltanto 100, potrebbe essere riproposto, proiettato a Trento quando uscirà il DVD che è già atteso in tutto il mondo con varie traduzioni. Molto belle queste immagini. Per chiudere ti chiedo una battuta sull'era Biden, lo dicevo prima in apertura, è cominciata ieri in un momento veramente delicatissimo anche per gli Stati Uniti, no? Certo, la pandemia sta infuriando negli Stati Uniti, è stato molto commovente ieri il momento in cui Biden ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare le vittime che sono quasi più di quelle del secondo conflitto mondiale. Sì, c'è speranza anche e soprattutto per i segnali non diplomatici, insomma, di accoglienza che sono venuti un po' da tutto il mondo. Ecco, abbiamo imparato dalla storia a non fidarci troppo degli uomini della provvidenza, però diciamo che i primi passi oggettivamente si presentano molto più promettenti di quelli compiuti da Donald Trump quattro anni fa. Io ringrazio molto Diego Andreatta, c'era qualcos'altro che volevi aggiungere fuori sacco? Direi proprio di no, perché come sempre le tue domande mi hanno consentito di sfogliare tante pagine di Vita Trentina, le altre le lasciamo ai nostri lettori. Assolutamente sì, grazie, grazie mille a Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina, per appunto averci dato delle chiavi di lettura a quello che succede nel nostro Trentino, ma non solo.